Nuove side si aggiungono, imposte oggi dai mutamenti climatici, dalla struttura demografica del Paese. Side che rilanciano la questione della tutela ambientale come centrale per la sopravvivenza e il progresso di tante parti d'Italia e dell'intero Paese. Gli alluvioni continuano ad armentarcelo con lutti e distruzioni. A questo scopo è lecito interrogarsi su quali debbano essere gli strumenti più opportuni per affrontarle e insieme per fornire risposta alle possibilità di inverare il dettato costituzionale circa la specificità riconosciuta in Costituzione della montagna. Una peculiarità suffragata anche da numerosi recenti sentenze della Corte Costituzionale che indicano come la condizione e svantaggio della montagna italiana giustifichi ampiamente misura a suo favore.